Amici di Dacajar e amici del Buon Gioco, oggi una puntata Q&A dove risponderò a delle domande che sono state poste sul gioco. Ecco, la trasmissione potrebbe finire qui perché non sono state poste domande, cioè ho visto in diverse chat, in diversi gruppi, i messaggi che dicono l'ho comprato, l'ho letto, che bello, mi piace, voglio presentarlo a degli amici, voglio giocarlo, voglio fare il mio facilitatore, ma nessuno che faccia domande. A me non sembra una cosa normale questa, cioè voi mi state dicendo questo implicitamente, che leggendo il manuale si capisce quello che c'è scritto, cioè davvero, voi leggete il manuale e capite quello che c'è scritto. Incredibile questa cosa, allora io me la sono dovuta inventare la domanda, me l'auto invento, quindi io non so se questo sarà nella rubrica Q&A o nella rubrica Dacca Giard for Dummies, però ho fatto fede, diciamo, ho fatto fede un video che ha fatto Fabio Gemesio, nel quale mi diceva, io, anzi non nel video, dicevo in questo video, io per metà del fumetto io non ho capito una mazza dei nomi, non capivo niente, ma cos'è? Bach, Sharp, Gna, 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 Mesh, ho detto, allora sai che facciamo? Facciamo una puntata sui nomi. Ecco, c'è da dire una cosa, che io stesso non conosco la pronuncia di tutti i nomi inventati da Matteo Casali, quindi vado per l'approssimazione, forse andrò anche intuito. Andiamo a vedere i nomi, quindi apriamo la mappa, questa mappa, sapete bene, la trovate anche qui. Tra l'altro, ragazzi, io farei una cosa, facendo finta di niente e sperando che né Panini né Need Games vedano questo video, sapete cosa dovete fare? Scrivete come se vi venisse naturale scrivere in varie community, ma non su Helios Games, mi raccomando, andate su, sulle pagine di Need Games, sulle pagine di Panini e chiedete, ragazzi, ma la mappa verrà stampata? Ci sarà una mappa grande? Ci sarà come da comprare a parte? No, non ditele da comprare, dite, regalerete la mappa a parte? No, perché non voglio farvi spendere altri soldi, non mi piace come cosa. Però la mappa è davvero molto molto bella. Tra l'altro il file che ho io qui è anche pesantissimo, ma spero che il mio programma sia capace di visualizzare, insomma, di... pesa 300 mega, però è sgranata, beh, è fantastica come roba, ma credo sia colpa del mio computer, non è colpa di nessuno. Allora, andiamo a vedere le pronunce, perché? Perché il nostro mastermind Matteo Casali si è fatto tutte le sue pronunce, si è preso le origini turco-balcaniche, cinesi, giapponesi, russe, così, e poi Oppo ha deciso lui come si pronunciano tutti, ok? Ha deciso lui, ed è veramente difficile. Allora, partiamo da qua, io vi dico quello che io di sicuro so come si pronuncia, e quello dove io non sono certo al 100%, vi dico come deduco che si faccia, ok? Però, oppure come dovete fare quando giocate con me, perché sarà anche il caso che mi cominciate a scrivere e dicatemelo, puoi facilitare, ci puoi giocare, oppure, ancora meglio, andate sul canale, sul server Discord di Need Games, a chiedere di giocarlo, ok? A me va bene facilitarlo, ho anche riletto le regole, può darsi che me ne ricordi, in parte. E poi, insomma, l'autore non sbaglia. Allora, cominciamo. Questa cosa qui, quest'isola, a nord-est, è El Javar, El Javar, ok? Lo leggiamo, questa J la leggiamo un po' alla inglese, potremmo dire. El Javar. El Javar è anche la capitale, quindi coincide, sostanzialmente. El Javar, El Jadin. El Jadin è il nome della linea di sangue che abita, ed corrisponde anche alla etnia, che in questo caso coincide, e che abita questa grande isola, con una singola capitale. Poi c'è il muro, non sappiamo questo muro, insomma, sono delle montagne, verso cosa dia, cioè non sappiamo su di qua cosa c'è, però c'è il muro. Poi c'è Tarsen, qua siamo tranquilli. Ecco, conoscendo Matteo Casali, potrebbe essere che mette l'accento in fondo. Quindi tu leggi Tarsen e lui ti risponde Tarsen. Prendetela come regola. Questo, io leggerei per esempio Hojek, vedete, facciamo una lente. Però abbiamo già imparato che El Javar, si dice con la J, quindi questo è Hojek. Però conoscendo Matteo Casali, Hojek. Quindi andiamoglielo a chiedere, si dice Hojek. Questa è una mia idea. Poi ci sono i monti di Mohu. Ecco qua, ma non vediamo, sapete cosa? Non vediamo tutti i nomi, ok? Perché vi dico intanto quelli che io conosco bene. Questa, per esempio, è Ernamir, che ho sempre pronunciato Ernameer, io, e mi piace di più personalmente dire Ernameer, ma l'ho sentita pronunciare da Matteo Casali e la capitale di Dervantal. Vedete qua il nome? Questa è la nazione, Dervantal. In questo caso invece l'accento va sulla E, sulla prima E. Dervantal. Misteri di Casali. Dervantal e la capitale Ernameer. Quindi abbiamo queste due E che si leggono I. Quindi anche questo è all'inglese, circa. La doppia A si legge comunque A. La doppia E si legge I. Qua ci mette sempre delle DJ, delle lunghe, e onestamente sono in serio imbarazzo a capire come si legge sta roba. Kursh, anche qua, SH all'inglese. Laotech. Ha studiato cinese anche il nostro sceneggiatore e quindi è molto facile che ci siano suoni che ricordano nomi di città cinesi. Qua, per esempio, Bois, a me ricorda un nome francese, io ti direi subito Bois, non credo sia assolutamente così. Probabilmente è Bois, o sì, Bois, come questo molto probabilmente è Arec. Quando potete spostare un accento a cazzo di cane, voi spostatelo e di solito, di solito ci prenderete. Se vedete c'è una sfocatura sullo schermo, è perché è la RAM del mio computer che non è in grado di calcolare niente, perché è vecchio, distrutto, più di me. Sanjar, io per esempio qua direi Sanja... è una R? No, cos'è? Sanjap. Non è come i paesi italiani, che sono San Rocco, San Giovanni. No, no, qua è Sanrou. Nel dubbio, nel dubbio, metti l'inglese, quindi è Sanrou. Non lo so, anche questo va chiesto a Matteo. Altro nome importante, qua infatti non andiamo a cercare i nomi che non conosciamo, altro nome importante è Omantal. Questo va detto così, anche perché è abbastanza difficile riuscire a sentire questa H. Omantal sarebbe, ma quando abbiamo detto Omantal siamo tranquilli tutti. Vedete la sonorità, la sonorità cinese, scogliere di Jar Lao, ok. Lago Dakar, ovviamente sarà Dakar, cioè Parigi-Dakar, no, vabbè. Andiamo giù. Daroche. Daroche, credo sia o la capitale o comunque una città molto importante, di cosa? Di quella, di quella nazione, il computer ormai intanto non se la può più fare, di quella nazione molto grande, molto ricca e molto importante, che è, vediamo il nome, Bakshar, ok? Bakshar, la parte centrale si chiama, credo, Altopiano di Bakshar. Questa città è la più importante o è molto importante, non me lo ricordo, Daroche. Scendiamo, ci sono tanti altri nomi, per fortuna ogni tanto ci dà dei nomi in italiano, nel senso dove conta solo il senso, no, dove conta la traduzione. Per esempio, a me piace molto, per esempio, quando non ci sono nomi propri, ma viene usata la traduzione nella lingua del lettore, ok? Quindi non mi interessa Amon, Amart, o quegli altri posti li inventati da Tolkien, ecco. Mi piacciono di più le traduzioni, onestamente piacciono di più le traduzioni, ok? La fiamma, il muro, la barriera, l'altopiano, i denti del troll, la catena di sangue, il buco di qualcosa, eccetera. Dopodiché abbiamo la conca di Muran, dove sono i Murmidin, che all'inizio non avevano neanche una I alla fine, quindi erano Murmidin, però adesso per riuscire a pronunciarlo è stato scelto di chiamarlo Murmidin. Mi sembra che Nicola De Gobbis l'abbia pronunciato Murmidin, ok? Perché? Ma la nemica colpa sua è che Matteo Casali sposta gli accenti come pare a lui e quindi ha detto, oh, l'avrà messo, l'avrà messo alla fine, come ha fatto in tanti altri nomi. No, 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 nel caso di Murmidin è Murmidin, ok? Quindi non Murmidin, ma Murmidin. La capitale di nome assolutamente, capitale poi in realtà sono dieci città, però quella che direi che è la città più importante, Nargarudn, mi ricordo un po' un nome da Warhammer, poi ci sono i monti Muran, perché è la conca di Muran, ovviamente. Questo nome, per esempio, come lo leggereste voi? Fargat? No, assolutamente, sono quasi certo che Matteo abbia deciso che si pronuncia Fargat. Perché? Perché uno dei tre personaggi principali di questa storia si chiama Margat, ed è scritto Margat, quindi è Margat, ok? L'altro è Arshal, e la A va sulla prima, sulla prima A, Arshal, non Arshal, ok? Arshal, ah no, quindi non è la prima A, Arshal, sì, è dopo. Ok, vediamo altri nomi che ci possono servire, ah sì, le nazioni qua sotto, certo, 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 Tesh-Nawar, le popolazioni che sono chiamate Naware si suddividono in due nazioni principali che sono poi agglomerati di baronie e di clan, Tesh, quindi SH letto all'inglese, e l'altro invece Lug-Nawar, ok? Lug-Nawar, questa qui, dove vedete che ci sono delle inversioni vocali che chissà, magari dipenderà dalle origine, la RAM purtroppo del computer non mi permette di riuscire a mettere a fuoco questa parte, ma va bene, o la scheda V, non lo so, comunque beh, fa merda, è Ra-Wanar, uno potrebbe dire, com'è? È Ra-Nawar, no, Ra-Wanar, quindi accento sulla A, accento sull'ultima A, Ra-Wanar. Vi serve sapere qualcos'altro? Direi di no, perché abbiamo visto, Conca di Muran, Tesh-Nawar, Lug-Nawar, Bakshar, Omantal, Dervantal e Del Javar, Ra-Wanar come isola dei pirati, Golfo di Narabà e alla fine abbiamo tutto. Quindi con questa puntata non richiesta sulle pronunce dei nomi di, del mondo di Dakajar, io direi che possiamo chiudere qui e se avete domande fatele, cioè non vi tirate indietro, mi raccomando, se avete bisogno di chiarimenti chiedetevi. Ancora più importante, ancora più importante, se non avete bisogno di chiarimenti, cioè proprio non, scrivetelo, ok? Cioè mi raccomando, scrivete, non, cioè da qualche parla, ci sono social, siti, server discord, ormai abbiamo talmente tanti modi di metterci in comunicazione che alla fine poi non si comunica mai una minchia, lo sapete, tanto è così. L'era contemporanea per il momento ce la prendiamo così com'è, ok? E poi ce la faremo, ce la faremo poi a comunicare in maniera un po' più diretta, ci saranno dei monopoli in futuro o degli oligopoli, non lo so, comunque è facile, è facile che ci sia questo discorso di monopolizzazione o comunque di polarizzazione dei dati e della comunicazione. Comunque prima di arrivare in questa era rimaniamo invece qua nel nostro presente dove abbiamo 100 profili e 100 pagine a testa ma poi nessuno parla con nessuno, ok? Quindi andatevi a cercare il server discord di Nid Games e il canale specifico di Dakajar oppure mettetevi in contatto con me, scrivete nel video sotto video di YouTube, insomma facciamolo un po' muovere sto algoritmo e scrivete il manuale scritto talmente bene che non ho bisogno di fare domande. Tutto chiaro. Ecco, questa è una bella frase, orsù. Bene, sono riuscito a stare sotto i 15 minuti quindi io vi saluto come sempre dicendovi buon gioco!